Allora, bene ragazzi, cominciamo benissimo di merda, cominciamo. Allora, vi avverto subito, sono molto agitati, siamo molto agitati, siamo in due, insomma hai uno e due, se ci vediamo io uno e due, allora, siamo un po' troppo agitati perché il nostro primo video stiamo per cazzeggiare con la pistola qua lì, con la pistola e noi vorremmo sparare a quelli lì dentro. Perché devi sparare il telefono, scusa? Madonna, non si vede una beata minchia. Cosa, sono solo di inverno. Che c'è? Devo sparare io, porca zozza. Spara. Spara la pietra che è senza peccato, vai. Che d'ho scelta, non è arrivato. Ho preso. Hai visto la deriva? Non l'hai presa, è presa il piccione, porca purtana. Puttana. Ho preso il piccione, diglielo. Ho preso un piccione, ho preso un piccione, ho preso un piccione. Vedi se ti stanno guardando, io non ho detto. Forza, non c'ho proprio, porca. Buongiorno. Ah, è ovviamente lasciato un bel mi piace. E ovviamente stiamo facendo un sacrificio, perché se casa me vuole, ci fai, ci vedono, ci fai, ci vedono, ci fai. Ah, scusa. Ragazzi, guardate che ho trovato. Un pallino dopo aver sparato un pallino. Vabbè, ma non è un gioco, siamo noi. Crede, non lo so. Sono gli illuminati, questi. Da 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 da. Io so. Ma ci sta, no? Carica con quei... Dammelo, Fabio. Aspettate un attimo, mi spieghere. Guarda che bella panoramica, si vengono sulle bollette. Si, forza. I mortaggi, ho detto, l'ho caricata. Posso? Aspettate, no, ragazzi, posso sparare? No, aspetta, vuoi si parli di merda. Posso? Ma vai, che puoi? Do spara il telefono. Ehm, è arrivato sul dentro. Va bene, dovrei fare il telefono. Adesso vediamo se ci sono un altro bug che riesce, vediamo. No. Non è uscito questa volta. Ma non c'è... Ma se io avevo... Io sono una testa di cazzo, volete sapere perché? Perché se io avevo ancora il mio fucile a cecchino, oh? Casomai io non l'avevamo già sparati. L'avevamo sparati da un bel pezzo invece di stare a perdere il tempo. Oh, frate, tocca a me. E ne ha sparati due. Eh, forza, adesso tocca a Mattia. Cattolone, riprendi? Città, 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 città. Spara a lei. Ecco, vabbè, bug è assolutamente. Ma che cavolo ha fatto? Girami un attimo, fammi la panoramica a me che so più bello dire. Non credo. Allora, mi avevi detto che era carica. Mi avevi detto che era carica. Oh, non lo so. Forza, vediamo se spara. Si sa sparare. L'ha beccato tra noi. Ma che lei? L'ha beccato tra noi. L'ha beccato, eh, ragazzi. Non è vero, ce l'avrebbe già detto way. Sì, perché non l'avrebbe già detto way? Sì, perché non l'avrebbe già detto way? Non l'avrebbe già detto, però... Dai, forza, mettere un altro. Mi sto mettendo l'altro. Non ci posso credere. Cazzo. Guardate, ragazzi. Ci sta un altro pallino. Ma io mi spazio, c'è tipo... Attenzione, si spara. No, non c'è sparare. Guardate come si spara, Mattia. Sì, ecco, mi sparo. Sì, ecco, mi sta caricando un altro fucile. Attenzione, si è fatto male. Si fassa a terra. Forza, spara. Sparo io. Ho trovato il profumo. Non cazzo, Mattia. Ho trovato il profumo. Ragazzi, ha trovato il profumo. Guardate. Forza, dammi la pistola. Oh, cazzo, quello che si spara in tv. No, ecco, se è tutto scemo, perciò. Forza, sta sparando. Papà, mamma, ha sparato. Guardate, Mattia, come si metteva ora. Fa ne che minaggio, addirittura. Sì, dì, 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 dì. Poi di testa. Dasgui, dì, 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 dì. Abbè, haiattene? Ma scusate, ma io ne ho due, uno l'ave usato. Guardate te lo lascio qui. ciao allora adesso Mattia sta ha caricato la pistola adesso vi facciamo vedere ecco adesso io sparerò se la prenderai carichiamone un'altra carichiamone un'altra è impossibile raga intanto sono già 5 minuti di video adesso mi sparo io se ci sparo lo dobbiamo fare così mi sparo i vestiti sparo la pianta ha sparato la pianta che sussonante ecco girala girala adesso Mattia sta mettendo una pallina di ricarica aspettate un attimo che lo mette comunque questi signori non ci guardano guardate non fa niente guardate guardate uno cazzo rido si perché rido illuminati ci sono guarda ci sono guardate ci sono ci sono illuminati guardate ci sono chi è in alto hanno aperto la porta hanno aperto la porta questi sono i fantasmi lo sapete che i illuminati esistono guarda cazzo c'è il laser vieni con me allora c'è il laser attento l'ho messo non l'ho messo perché la devo mantenere perché non so come si fa sei minuti si sono sette quasi c'è qualche spirito guardate il mio cacchio lì si c'è lo spirito Mattia cosa vuoi si bella allora ma si è andato dalla mamma non so perché adesso è sentato come un pazzo eccolo qui tutto ubriaco perché si è fatto ieri sottose ha messo il laser adesso dovrebbe sparare però non va ecco ecco se no devo in modo sexy in modo di sciacchino si si ho parato mi chiamiamo mi chiamiamo ai corsa carica andiamo a caricare guardate qua signori com'è giusta questo video lo chiameremo il bug del più guarda guardate sparalo pensi abbiamo colpito l'amministratore ragazzo del palazzo dovrebbe toccare a te faccio un'inquadratura solo per me guardate ragazzi si vede la mutandina e c'è tigro qui oddio non tocco più niente poi qui c'è lo chanel lo chanel guardate ah ok ehm lo chanel lo chanel lo chanel è questa è questa è questa per mia sorella aspettate che me la metto po' tipo ah fanculo ne stacca casotto andiamo io andiamo ok 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 penso ok andiamo ora aspetta lo sparo adesso li mettiamo proprio a questi c'è un tizio sopra qualcuno mi sto rompendo c'è un tizio sopra qualcuno adesso faremo la cannegina guardate quali cannegina la cannegina ma non è cannegina quelle sono le bottiglie d'acqua te l'ho già spiegato pam te non è la cannegina te sta di cazzo adesso non mettiamo nemmeno sparo con la tizia sopra si lo sparo soltanto a questo guarda guardate guardate aspetta che c'è lo zoom non guardi io mi rompo a fare queste cose e fermate un attimo che siamo a 9 minuti di video guarda aspetta che c'è lo zoom che non hanno visto una beata mince adesso lo sparo ma io sparo proprio a quel signore ma quello ma vuoi da pia ha paura ma quale è paura io sono andato per qua perché quello diceva Waze la piava con me perché giustamente tu abiti dall'altra parte io abito qui quindi cazzarola che la prendono con me minchia allora facciamo chi è se tu questo figlio di qua e se la pigliarlo con te ti sembra bello tocca a me fratello tocca a me fai mettere io e mettere un piombino ma bene ma ti sto mettendo queste le ricariche e stanno mettendo il pallino gli è caduto è proprio pazzo è pazzo sì perché io la mattina posso dipendere il latte e prendere il vino ah sì avete sentito che ha detto posso dipendere il latte la mattina e prendere il vino guardate è un pallino un pallino un pallino mamma si sta infatti adesso vediamo che spara che fa cosa faccio vediamo un po' che fa guardate quei signori che lavorano tizzi tizzi guardate la pallina come scorre guardate 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 la pallina come scorre là pum è caduta io ho sparato a sti panni allora penso che siamo a troppo a dieci minuti di video possiamo stoppare bella al prossimo aspetta non stoppare perché devo vedere l'intelligenza di sto caricatore ma Martina vuole sparare di nuovo ma ma non voglio sparare perché devo fare Chanel aspetta aspetta guardate questa cosa Chanel ce l'ho fatta vedere io è Chanel è una cover guardate ma a testa di cazzo è un profumo è una cover ma è un profumo non è vero ha pagato 50 centesimi è una cover ovviamente 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 il gesto questo gestaccio non l'ha fatta a voi ma l'ha fatta a me e porca puttana manco che sei zitto girami guardate come si può se provare al prossimo